benvenuti su mr gadget punto tech siamo quasi alla fine dell'anno tempo di bilanci e analisi anche nel mondo della tecnologia allora siamo pronti a partire con il tema di oggi se state pensando a un nuovo smartphone quali sono i primi marchi che vi vengono in mente apple samsung quali altri lo chiediamo perché dal nostro punto di vista uno dei brand su cui puntare per il futuro è honor alla fine del 2022 una delle principali evidenze del mondo tech è proprio questa honor è cresciuta in modo esponenziale in cina è tornata in forze in italia e ha presentato un portfoglio di prodotti contenuti nei numeri ma di altissima qualità potremmo raccontarvi il dettaglio dei servizi di google che sono presenti in tutti i cellulari honor ma in realtà non è un vero e proprio elemento di forza perché è qualcosa di scontato in tutti i prodotti android discorso diverso invece è quello delle soluzioni che honor ha pensato per chi usa la fotocamera verissimo e questo è un dettaglio fondamentale per chi come me usa tantissimo il telefono per foto e video però anche questo potrebbe sembrare un argomento scontato perché tutti i cellulari hanno una fotocamera che oggi è più o meno buona anche questo è vero ma nessuno offre le soluzioni software con cui sfruttare la telecamera che sono tipiche di honor in particolare quelle di honor 70 beh potremmo fare una vera e propria sfida in famiglia perché io uso honor magic 4 pro mentre laura preferisce la soluzione più casual di honor 70 giusto e amo honor 70 soprattutto per solo cat l'opzione che permette di girare contemporaneamente video in orizzontale e verticale in alta definizione allora io rispondo con la modalità cinema questa forse meno diffusa probabilmente interessa un numero meno elevato di utenti ma rappresenta uno dei dettagli più interessanti di honor magic 4 pro che tra l'altro aggiunge anche la possibilità di usare degli schemi colore avanzati che permette di fare delle cose molto carine in fase di montaggio beh ma tu hai un'età diversa per cui sei meno interessato al dettaglio ma ti segnalo che sia honor magic 4 pro che honor 70 hanno anche una modalità storia che ti guida nello sviluppo dei contenuti da condividere facilmente sui social beh in effetti io spesso amo consumare contenuti piuttosto che produrne ho apprezzato molto il display di honor magic 4 pro con un miliardo di colori e con una luminosità massima che arriva ad un picco di millenitz ma torniamo alla domanda originale se pensate a quale smartphone comprare oggi quali marchi vi vengono in mente io aggiungerei sicuramente honor che ha anche un rapporto qualità prezzo davvero molto interessanti ovviamente le prestazioni di honor x8 honor 70 e quelle di honor magic 4 pro sono differenti però lo sono anche i loro prezzi è vero però c'è da dire che nelle rispettive fasce di prezzo si distinguono per le loro prestazioni noi ve lo diciamo in modo del tutto trasparente questo video è realizzato in collaborazione con honor ma non lo avremmo girato se non fossimo pienamente soddisfatti dell'esperienza d'uso fatta nel corso del 2022 in questi giorni tra l'altro abbiamo provato anche honor magic vs che è il dispositivo pieghevole appena lanciato in cina siamo rimasti folgorati dalla qualità con cui è realizzato prepariamoci alle novità del 2023 ma se già oggi state cercando il vostro prossimo regalo tech date un occhio alle proposte di honor e se non vi piacciono poi io vi rimborso sei sicuro della qualità dei telefoni sì sul rimborso ci penso ci troviamo presto su mr gadget punto tech ciao ciao da tecno laura e luca viscardi grazie a tutti 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 grazie a tutti